Riparte la stagione della Montesi Volley Pesaro pronta ad affermarsi nel campionato di Serie C con alcune novità. A cominciare dalla nuova collaborazione tra Montesi e Virtus Fano fino al nuovo allenatore Michele Maldoni. Quest'anno abbiamo una serie di novità per quanto riguarda la Montesi Volley Pesaro, nel senso che la nostra prima squadra ha creato una sorta di collaborazione comunque con la Virtus Fano in un'idea di progetto e quindi i ragazzi della Montesi sono apparentati quest'anno con la Virtus Fano e di conseguenza i ragazzi fanesi vengono in prima squadra da noi. È un'idea che speriamo porti i frutti perché così si creano delle sinergie, soprattutto speriamo per il futuro portino anche dei risultati a livello individuale e anche di squadra. Abbiamo preso ragazzi che già l'anno scorso avevano militato in C, quasi tutti in C, c'è solo un ragazzo che proviene dalla prima divisione ma che ha delle ampie possibilità fisiche e quindi diciamo che nel gruppo comunque già l'anno scorso è un ragazzo di Fano che comunque già l'anno scorso si allenava con la C anche se poi di fatto ha giocato più in prima divisione che in C. per il resto invece sono tutti i ragazzi che hanno già militato, si sono allenati e diciamo la composizione della squadra è abbastanza equilibrata. Adesso poi chiaramente i primi test ci daranno una risposta positiva o negativa e ci diranno anche dove dovremo lavorare di più e meglio. Per la Montesi diciamo che è fondamentale il settore giovanile partendo dal mini volley svolto in collaborazione con il volley Pesaro e il Monte Granaro in una sorta anche qui di collaborazione perché nell'ottica che da soli si va poco lontano quindi abbiamo un mini volley molto florido e fortunatamente anche su Pesaro essendo anche l'unica compagine maschile abbiamo dei bei numeri per quanto riguarda l'Under 13, Under 15, 17. Sabato 21 settembre primo appuntamento ufficiale con la Coppa Marche che vedrà la Montesi opposta alla volley 3 di Belvedere Ostrense. La Coppa Marche per noi è un banco di prova e la possibilità di poter provare la squadra prima del campionato. Sono cinque gare quindi alcuni sono costretti a fare le amichevoli, noi invece utilizziamo questa opportunità per rodare un pochino i meccanismi della squadra. Poi ovviamente essendo una Coppa e avendo anche un obiettivo finale che è quello di vincerla ci proveremo a farlo.